Lavori quasi ultimati nel prefabbricato realizzato per gli alunni della Scuola Narvesa. Il Comune di Pordenone ha mantenuto un'altra promessa. Infatti, grazie alla perfetta collaborazione tra gli assessorati e gli uffici comunali di edilizia e istruzione, gli studenti della Scuola Gasparo Narvesa frequenteranno l'intero anno scolastico 2022-2023 nel nuovo prefabbricato, realizzato in tempi record in via Peruzza, a Torre di Pordenone. In un momento così difficile per il Comune, che deve da un lato gestire i fondi che ha intercettato, dall'altro scontrarsi con la tempistica per non perderli, con l'aumento della materia prima e con l'aumento dell'energia, in tempo record è stato montato questo prefabbricato grandissimo che ospiterà progressivamente la Scuola Narvesa, poi i ragazzi della Grigoletti e poi quella della Beato Dorico. Tre scuole che varranno completamente riqualificate per renderle sicure dal punto di vista sismico, per renderle più accoglienti, moderne ed attrezzate tecnologicamente. È stato uno sforzo titanico, però coerente con la volontà del Comune di migliorare, riqualificare complessivamente il patrimonio scolastico di sua proprietà. Un Comune ha tantissime priorità, però è chiaro che costruire il prefabbricato per gli alunni della Narvesa e poi negli anni successivi per quelli delle altre scuole era la priorità delle priorità. E così abbiamo fatto, con uno sforzo organizzativo ed economico notevole. È anche il frutto di un'ottima collaborazione tra sindaco e assessori e tra gli uffici del Comune. È un'ottima soluzione anche dal punto di vista dei parcheggi e della palestra che è qui vicino. Lo stabile si trova nell'area adiacente alla palestra dell'Istituto Flora. L'ingresso sarà da Via Peruzza, dove è presente un ampio parcheggio. Questo temporaneo spostamento è dovuto alla necessità di eseguire urgenti lavori di sicurezza antisismica nella scuola di Via Fonda. Tutte le famiglie coinvolte sono già state informate tramite una comunicazione diretta da parte dell'amministrazione comunale.